E buonasera a tutti carissimi, eccoci giunti a un tema molto scottante, l'ora del serpente, un percorso che vi vuole guidare dal serpente al drago, ai moderni rettiliani, certamente non un argomento da affrontare con leggerezza in quanto presuppone tantissime nazioni, ma anche se ci pensate bene fa abbastanza paura per cui allacciate le cinture, state stretti, toccate i vostri amuleti e procediamo in questo percorso. Come è possibile che dal drago, dal serpente, dalla creatura dell'antichità siamo giunti al moderno alieno rettiliano? Ecco, tutto parte dai dinosauri, da queste creature così misteriose di cui ci sono rimaste ossa, che nelle varie epoche hanno creato leggende intorno ad esse di creature mitologiche, di mostri, di draghi. E questa è l'immagine, diciamo, di transizione che ha portato a creature quali draconiane o rettiliani, cose insomma parti della fantasia, punto di domanda dei moderni umani o c'è sotto un velo, dietro il velo c'è una qualche verità? Ed è questo che cercheremo di appurare questa sera. come si è arrivati da un rettilone a una creatura umanoide con queste fattezze, una creatura intelligente, una creatura che interagisce con gli esseri umani, come si è arrivati da una creatura lacustre, come può essere questa, alla formazione di un drago vero e proprio intelligente e capace di cambiare la vita degli uomini. Tanto più che appunto si è creata una vera e propria religione rettiliana e l'ognosticismo, nelle sue varie correnti degli ufiti dai naseni, ha creato vere e proprie adorazioni del serpente nelle epoche storiche passate, serpente inteso come il datore della conoscenza della luce, quindi lucifero, identificazione di lucifero in una forma positiva. e fino alle moderne cospirazioni degli illuminati e di un regime della Terra in mano a creature rettiliane, rettiliformi, rettoidi, reptoids e chi più ne ha più ne metta, che aspirano o hanno già il controllo del mondo. Ma procediamo con ordine in questa ricerca così particolare. Andiamo ai dinosauri, procediamo dal dimetrodonte, una grande lucertola che usava appunto la sua propria spina dorsale per potersi riscaldare, quindi era un animale a sangue freddo, non molto intelligente e arriviamo dopo un'evoluzione incredibile al velociraptor, creatura appunto bipede, in grado di avere ditta prensile, in grado di cacciare in gruppo e quindi magari spingendosi più in là avrebbe potuto elaborare anche un linguaggio, una forma di comunicazione sicuramente e una forma di vita collettiva. Infatti ci sono alcune teorie di studiosi che dicono che appunto dal troodonte poteva evolversi una creatura umanoide. Se l'evoluzione dei dinosauri non fosse stata fermata noi oggi saremmo dei serpentelli con questo aspetto così particolare e leggeremmo il giornale con questi occhi. È veramente una cosa che fa impressione. Ma c'è stato probabilmente questo grande, diciamo, meteorite, questa cometa, secondo alcuni una seconda luna, che è entrata in collisione con la Terra e ha cambiato completamente il clima, arrivando a prediligere e a favorire i cosiddetti mammiferi. Secondo gli studiosi noi deriveremmo appunto dalla tupaide. e in una catena infinita di evoluzione saremmo arrivati appunto ai primati, agli ominidi, agli ominini, i primi esseri, fino a raggiungere appunto all'essere umano vero e proprio che ha preso il dominio della Terra. Però, secondo alcuni studiosi non convenzionali, certo non vengono invitati all'università, però anche loro hanno una loro logica, si appoggiano al primo principio della termodinamica che dice che nulla si crea, nulla si distrugge. Infatti un universo termodinamico costituito dal sistema e dal suo ambiente è un sistema isolato. L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma, passando da una forma a un'altra. L'energia può cioè essere trasferita attraverso scambi di calore e di lavoro. Se ammettiamo che i dinosauri si siano estinti nel corpo, ma che la loro anima, la loro essenza sia sopravvissuta, è possibile che in dimensioni più sottili abbiano raggiunto un'evoluzione pari a quella umana, se non superiore. E infatti molti studiosi non allineati parlano di possessione rettiliana. Dietro figure istituzionali ci potrebbero essere rettiliani che hanno preso il potere e che controllano l'umanità. Potrebbe essere vera questa cosa? È una follia? È difficile raggiungere un verdetto. Comunque ci rimane una cultura dell'antica Sumeria, la cosiddetta cultura di Ubaid, che ha creato solo statue di creature rettiliane e sembrerebbe proprio che queste statue potessero raffigurare esseri come questi, serpentiformi. È possibile che un'evoluzione parallela, visto che centomila anni fa c'erano diversissime figure di uomini che vanno dall'Hobbit all'uomo nano, all'uomo piccolissimo, all'uomo di Neandertal, all'uomo molto alto, all'uomo muscoloso, a varie proprie tipologie di uomini completamente diversi. È possibile che potessero convivere lucertole intelligenti. Abbiamo il mito di Gnum, nell'antico Egitto raffigurato, sembrerebbe con un'immagine di caprone, ma in realtà con questi colori così verdi, questo muso così allungato, potrebbe assomigliare addirittura ad un serpente oppure ad un drago. E, nelle immagini convenzionali dell'Egitto, appunto, il di Gnum è l'artefice dell'uomo, lo crea insieme a Thoth. E in queste immagini sembrano proprio rappresentati con un viso verde, sembrano esseri rettiliani, creatura appunto di quel mondo che precedeva quello dell'uomo, esseri di Atlantide, esseri della Lemuria. In effetti, le cronache di Iberoso parlano appunto di questi ibridi, metà uomini, metà pesci, metà rettili, che, sbucati dal mare, hanno cercato di recivilizzare l'uomo dopo la grande catastrofe, il grande diluvio, che secondo alcuni sarebbe nel 10.500 circa, avanti Cristo, quando una pioggia di meteore pesantissima ha spostato l'asse terrestre e ha creato dei cataclismi, uccidendo quegli esseri primordiali, facendone sopravvivere solo alcuni. E forse anche questi crani allungati che troviamo potrebbero essere ibridi, potrebbero essere creature a metà tra questi antichissimi uomini, serpente e la nuova umanità? Punto di domanda. Ci fa riflettere molto la storia di Dagon, raccontata dall'Ofkrat, questo obelisco che emerge dall'oceano, questa cultura preistorica di esseri ibridi, rettiliani, che sono notati di intelligenza e di propria autonomia e, appunto, terribilmente potrebbero governare l'uomo. Andiamo avanti, nel mito appunto del paradiso terrestre, di questi rettili sapienti che lo abitavano, che, secondo appunto la narrazione biblica e, diciamo, l'esegesi biblica erano alti, avevano l'altezza di un cammello, quindi molto alti, e erano dotati di braccia e di gambe in una postura retta. Quindi è possibile che ci fossero razze rettiliane intelligenti che hanno, in un certo modo, condotto in una certa direzione la vita dell'uomo? Punto di domanda. Nel mondo cinese e anche giapponese i draghi sono civilizzatori, sono creature intelligenti, buone e gli imperatori si narra che discendono dai draghi stessi. I Nagas, nell'antica India, appunto, sono esseri ambigui, comunque molto intelligenti e molto validi che anche loro hanno svolto funzioni civilizzatrici. Nel mondo ebraico abbiamo questo gigantesco serpente, il Leviatano, che viene ad essere un guardiano dell'abisso, del caos, del mondo non ordinato, quindi, forse anche dell'inconscio, che ha contribuito a creare poi l'immagine successiva di Tiamat nei miti, appunto, oppure è stata Tiamat stessa che ha influenzato il mondo ebraico e poi è andata a creare il mito del drago nel Medioevo, di questo serpente che si trova sempre nell'imes tra l'oscurità e la luce, nelle periferie delle città, nelle grotte, a custode di tesori inenarrabili, quindi questa creatura che diventa una specie di guardiano della soglia, guardiano del nostro intimo, guardiano dei nostri desideri più oscuri, quindi una creatura che si pone tra l'io e, diciamo, la nostra parte irrazionale, il nostro, diciamo, inconscio e il drago viene sempre sconfitto, San Giorgio, Docet e insieme a tutti gli altri con funzione civilizzatrice, drago che viene a rappresentare appunto i demoni. Nell'agnosi abbiamo il drago, il serpente, il mostro che rappresenta l'arconte, la creatura appunto che ha plasmato insieme al demiurgo l'uomo, però l'ha plasmato nel male, nella materia, mentre la scintilla divina deriva appunto dal Dio e il percorso dell'uomo è quello di un'ascesa dalla carne per giungere al pleroma, alla pienezza, alla bellezza divina. Abbiamo anche Abraxas, un neone, una figura appunto arcangelica che però ha questa sua caratteristica di base di essere appunto un serpente, quindi un ponte tra il mondo terrestre, il mondo del caos, il mondo degli istinti e il mondo superiore rappresentato da questa figura aviforme di uccello, quindi di angelo. È il signore dei 365 cieli che permette quindi di arrivare alla divinità, al vero Dio. E come non ricordare la goezia di Salomone che parla appunto di tutti questi demoni che non erano altro che divinità poi demonizzate, molto spesso rappresentate come serpenti, draghi e mostri, come può essere il vassago, un demone che cavalca un cucodrillo gigantesco, oppure Andromaglius che è un altro demone serpentiforme. Quindi serpente come essere liminale tra il mondo del bene e il mondo del male, il demone e il mostro, l'altro da sé, l'alieno. E oggi abbiamo diciamo la moderna fantascienza che fa vedere esseri metà umani e metà rettili e per oggi si parla più che altro a livello spirituale di interferenze di questi esseri che abitano altre dimensioni che governano l'essere umano in una forma moderna del demone praticamente, in una trascrizione moderna di quello che era il demone medievale rinascimentale rappresentato in tutti i disegni come una creatura dell'aspetto serpentino, si dice appunto che questa evoluzione di questi esseri in un mondo parallelo abbia creato appunto anche punti di contatto e quindi interferenze di questi alieni rettiliani e qualcuno si spinge addirittura a dire che essi hanno il controllo del mondo e che la moderna società consumistica è una società alienizzata alienante alienatrice qualche cosa di non umano e in effetti sembra che il mondo di oggi stia evolvendo verso una cultura non umana tanto più che alcuni dicono che queste creature hanno anche il controllo della religione che abbiano creato appunto le religioni per poterci controllare meglio e che cosa fanno rapiscono esseri umani per fare esperimenti li tengono in contenitori cercano e creano addirittura dei soldati fantoccio dei militari che hanno funzione di sorveglianza quando rapiscono le persone e sono di contatto tra loro e gli alieni e il loro scopo sarebbe quello dell'ibridazione del poter bucare questo velo squarciarlo ed entrare attraverso corpi ibridi nella realtà materiale per provare tutta la gamba dei sentimenti umani per poter dominare il mondo concreto e non rimanere come dei fantasmi nell'altra dimensione oppure addirittura servirsi di quella che si può definire l'anima dell'essere umano per rigenerarsi dal punto di vista energetico quello che succedeva nella piramide appunto di che e secondo alcuni studiosi e questa preziosa dote che possiede solo l'uomo è in grado di rigenerare il corpo del serpentone qui da qui la storia del demone del diavolo che ti vuole rubare l'anima come combatterli noi siamo le creature più perfette dell'universo siamo un misto di materia e di energia animica quindi abbiamo tutto il potenziale dell'universo e abitiamo la terra di mezzo e condividiamo il cielo e la terra il cielo con gli esseri superiori e la terra con gli esseri inferiori la meditazione è una potentissima arma che possiamo utilizzare contro queste creature che potenzia il nostro sé interiore l'invocazione di esseri quali sono i felinoidi che si dice che siano ormai evoluti a livello arcangelico e che possono aiutare gli esseri umani a sconfiggere questi esseri inferiori deteriori che però sono dotati di una tecnologia molto potente e sarà un caso che gli egiziani adoravano gatti sfingi creature felinoidi oppure corrisponde alla verità io invito tutti voi a fare riflessioni a ricercare e a dire la vostra è la fine io direi che è solo l'inizio buon viaggio buon percorso e spero di avervi stimolato con queste storie arrivederci alla prossima